Ci si prepara al cauto ritorno alla normalità con la fine del mese di aprile, cambiano le regole che riguardano il Green Pass. Dal primo maggio cosa accadrà? È la data in cui finisce l'obbligo del Green Pass sul lavoro, anche per palestre, spa, centri benessere, trasporti a lunga percorrenza, hotel, ristoranti al chiuso, cinema, teatri, discoteche. Non servirà più esibire la certificazione verde nelle università né ai concorsi. Resta tuttavia l'obbligo della certificazione rafforzata invece per il mondo sanitario, ovvero per i medici, gli infermieri, il personale sanitario e amministrativo e per le RSA, per i quali resta comunque la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina. Una partita parzialmente aperta è quella che riguarda le mascherine, perché l'obbligo del primo maggio nei luoghi con minore rischio cade. Tuttavia si parla insistentemente di mantenere l'obbligo almeno sui trasporti pubblici, dove sarà ancora obbligatorio essere muniti di FFP2. Si attendono tuttavia le scelte del ministro Speranza che pare percorrerà la strada della prudenza. Grazie a tutti.